Allora, stiamo per cominciare l'Avvento, quindi ricomincia l'anno liturgico e ci stanno alcune cose che ogni tanto mi vengono appunto in mente o alcune domande che mi fanno, tipo ma non è una cosa un po' ripetitiva ogni anno ricominciare? No, perché ogni anno il Signore ci chiede di rivivere la bellezza del mistero della sua nascita, passione, morte e resurrezione. Quindi in realtà tante cose si ripetono nella nostra vita, anche le nostre giornate tante volte, lo stesso anno civile, ma non per questo noi pensiamo che sia appunto una cosa monotona, o almeno non dovremmo farlo, perché forse il punto focale è proprio questo, ma noi come viviamo ciò che ci viene donato, anche questo anno liturgico, come la vita stessa? Siamo noi che nella nostra libertà dobbiamo dare un senso a tutte le cose. E quindi ecco, questo è l'augurio che vi faccio, stiamo per cominciare un periodo forte, quello dell'attesa, e qui ci sarebbero tante altre domande. Noi siamo ancora in grado di attendere qualcosa, o nel nostro caso di attendere qualcuno, e dall'altra parte interrogarci sulla risposta che noi diamo appunto, in attesa di questo dono, che è la venuta di Gesù sulla terra. Noi come ci poniamo rispetto appunto a questa cosa, che ha un valore inestimabile, se noi siamo battezzati, siamo chiamati a vivere la vocazione fondamentale, che è quella della santità vissuta in vocazioni particolari, particolari, che ognuno ha le sue. Una vocazione poi anche qui, tante volte forse fraintendiamo un pochetto, cioè cos'è la vocazione? Quello che sono portato a fare o quello che mi piace fare? Io penso proprio di no, la vocazione è ciò che siamo chiamati a fare fin dall'eternità. E la prima cosa è quella di essere santi attraverso la nostra vocazione particolare, che essere prete, la vita religiosa, la vita matrimoniale, i vari tipi di vita. Fanno parte di un progetto più grande, riconoscere quello è la base per essere santi nel nostro oggi, perché ricordiamocelo, la santità è fatta di presente, non è fatta di futuro, di passato. E allora perché festeggiamo i santi? Semplicemente perché ci ricordano una cosa fondamentale, che la grazia di Dio opera. E quando incontra la nostra libertà e diciamo il nostro sì, allora la nostra vita cambia davvero. Ma senza uscire fuori tema, la cosa che volevo fare era appunto stimolare me e stimolare ognuno di voi sotto questo tema. Ricominciamo l'anno liturgico, non diamolo per scontato. Viviamolo fino in fondo, prendiamoci questo impegno. Perché sappiamo che l'anno liturgico arriva. Ma noi come viviamo e come sfruttiamo la bellezza che ci viene proposta attraverso le scritture, gli incontri e la realtà e ciò che la Chiesa sapientemente ci propone, prendiamoci la responsabilità di vivere fino in fondo la nostra vita. Prendiamoci la responsabilità di vivere fino in fondo anche questo tempo dell'Avvento. Non vi stresso più, ci vediamo prossimamente con altri video. E scusate questo video fatto così random, ma era una riflessione, e quindi non l'ho neanche in realtà modificato. Come è fatto, lo pubblicherò. Quindi non è stato fatto in modo particolare o non è stato in qualche modo tagliato dopo, come faccio normalmente con i video o con una postazione fissa. Lo faccio così. La cosa che mi preme di più è augurarvi un felice e un santo avvento. Dipende da Dio, ma l'incontro con Dio ci sta sempre, ma soprattutto dipende da quanto noi nella nostra libertà diciamo il nostro sì. Vi auguro un felice e un santo avvento tra pochi giorni.